A me è piaciuto tantissimo di questo corso il poter stringere delle nuove relazioni con delle persone con cui condivido comunque dei progetti e quindi potermi confrontare con loro. Anche il fatto di essere pochi ci ha dato la possibilità di conoscerci meglio e di interagire tantissimo tra di noi e di approfittare anche magari delle conoscenze degli altri. Quindi per me è stata una bella ricchezza senza considerare che comunque l'organizzazione è stata molto accurata. Mi sono sentita anche molto coccolata perché comunque c'è stato chi mi è venuta a prendere all'aeroporto, chi mi ha accompagnato dall'albergo al corso, dal corso alla cena, dalla cena all'albergo. Quindi sempre seguita, sempre tranquilla dal punto di vista organizzativo e poi più libera di pensare ai contenuti del corso. Gli argomenti erano tutti piacevoli, però per quello che mi riguarda di più erano le campagne pubblicitarie, quindi come vengono impostate, quali strumenti vengono utilizzati, come utilizzarli, quanto far durare una campagna, come impostare anche il messaggio che viene dato, quindi anche le persone da scegliere. Insomma è stato un argomento che mi ha aperto molto le mie conoscenze in questo campo e poi mi ha fatto nascere anche nuove idee. Quindi questo che mi è piaciuto di più. La suite sito vivo come software è, a mio modesto parere, stupefacente, perché comunque ti dà la possibilità di non pensare a tantissime problematiche e quindi di risparmiare tantissimo tempo, come per esempio il risponditore automatico, oppure il fatto di mandare delle mail a tempo, quindi ad un certo target, oppure diciamo che va ad individuare quali sono i nominativi delle persone che lasciano il lead preciso e quindi lasciano la mail precisa in base alle campagne che uno fa o quindi su Facebook in genere. E poi dal mio punto di vista è proprio una cosa strabiliante e anche che mi ha dato sicurezza, perché magari tutte queste cose non saprei nemmeno dove mettermi le mani o a chi rivolgermi, invece so che c'è questo software che lavora per me e mi rende molto più tranquilla. Quando io ho conosciuto Fabio e quindi sito vivo, avevo un grandissimo desiderio, che era quello di portare un sostegno di valore a tutte le coppie che hanno un desiderio di avere un figlio e hanno dei problemi nel concepimento. Per me è un desiderio grandissimo. Il problema era che io non sapevo né come, né dove, né quando e nemmeno come poterlo fare, cioè come poterlo realizzare proprio praticamente. Poi ho conosciuto Fabio e attraverso la sua consulenza, molto più che professionale, mi ha dato innanzitutto la consapevolezza di quello che io potevo fare io proprio e quindi non nel cercare figure esterne che mi aiutassero, ma proprio di quello che potevo dare io come persona, di come poter organizzare gli argomenti. Poi mi ha dato la capacità di realizzare anche un altro sogno, oltre quello di dare a queste coppie un qualcosa che gli servirà proprio in tutta la vita, non solo per raggiungere il loro desiderio, che era quello di scrivere un libro per me e, beh, fino adesso ne ho scritti due, quindi è un grande risultato e mi sta aiutando proprio anche, oltre che in desiderio mamma, proprio a livello personale come raggiungimento di tantissimi obiettivi. Quindi per me è stato fin qui fondamentale, sia la consulenza di Fabio, sia la consulenza di tutti voi di Sitovivo, quindi grazie. Grazie a tutti.